Sono quasi le 5.57, adesso andiamo dalla nostra Alessandra Canale per la Repubblica Utilità. Quali gli aggiornamenti? Alessandra, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Giusefine, buongiorno ai nostri telespettatori. La circolazione in questo momento è in fase di intensificazione, soprattutto attorno ai centri urbani per i primi spostamenti pendolari del mattino con l'inizio delle attività lavorative e scolastiche. Malgrado il tempo incerto, infatti l'Italia è divisa in due. Al nord abbiamo tempo incerto, soprattutto al nord-ovest, sta piovendo sulla 26 la Genova Graveleonatoce e sulla 12 la Genova Rosignano e poi al centro e al sud tempo stabile. Attenzione in questo momento anche alla nebbia presente sulla 25 la Torano Pescara ma anche un tratto dell'autosole che va tra Cassino e San Vittore. Come di consueto, Giusefine, monitoriamo il real time, le immagini ci giungono in diretta. Qui siamo sulla 11 la Firenze Mare e non ci sono particolari disagi da segnalare in questo tratto. Scendiamo nel tratto capitolino dell'A24. Ecco, questa è un'arteria importante e già ci sono i primi rallentamenti pendolari in direzione della tangenziale est verso il centro della capitale. L'unica segnalazione di criticità riguarda la strada statale 106 Ionica perché a seguito di un veicolo in fiamme al momento ci sono dei rallentamenti all'altezza di Metaponto in direzione Reggio Calabria. E poi infine vi segnalo una notizia appena giunta di code sull'autosole per motivate da cantieri di lavoro tra Fidenza e Fiorenzola in direzione Milano. Giusefine, queste sono le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, buona giornata a te, buon lavoro ai tuoi colleghi e il prossimo aggiornamento tra circa 30 minuti. Anche a te e tutta la redazione. Grazie per la visione.